Buongiorno a tutti, ragazzi, amici del canale YouTube, e a tutti appassionati dei campani come me. Oggi fuori questa campagna suonare il mio concerto di 6 campani, volta a fare 3, adesso ascoltiamo sempre la Santa Messa alle 8 e mezzo. Di fronte a tempo vi faccio vedere, questi sono i campanoni, la benzane, la squina e la piccola. La s'ascoltevo, di stessa che la Santa Messa alle 8 e mezzo, quindi a presto la loro campanita, ma non ascolto a tutti, ciao. Grazie a tutti. 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 3 3 2 3 4 5 5 6 7 8 10 10 11 13 14 15 15 16 16 16 15 15 15 16 15 15 15 15 15 15 Quindi 4,7,8,8,8,8,8,8,8. Quindi senti dopo. Ma dopo? Allora, dovevo partire. Allora, dovevo partire la campanu. no 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 questa sera del campanone 8 e mezzo che vedete per la messa prima gode questa semina ti senti dopo va dopo per la messa ragazzi la santa è distesa del campanone 8 e mezzo quindi si vede davanti alla chiesa a dopo Ciao a tutti